Prepariamo insieme le ciotole BARF di oggi. Ecco le nostre ciotole e tutti gli ingredienti che andremo ad usare. Partiamo dalla polpa di cervo, cuore di tacchino, rene di manzo, una quaglia intera, alici essiccate e tripa verde di manzo sempre essiccata. Aggiungiamo le nostre verdure disidratate e per finire la ciotola aggiungiamo il nostro olio di lino. Ciotole pronte, non ci resta che portarle ai lupetti. Buon appetito!